Lux è pronto di entrare a Pentevieio dopo aver partecipato alla festa con gli altri medici. Sul giornale è apparsa una foto che lo ritrae mentre partecipa all'incontro, ma stranamente la sua immagine viene cerchiata a penna da una mano misteriosa. Di chi si tratta e perché è evidenziato il volto del medico, Bosco vuole aiutare sua nonna Francisca, decide quindi di impegnarsi insieme a Mauricio per riparare i canali di irrigazione. Un vecchio amico di Raimundo invia un biglietto segreto alla Montenegro nel quale le chiede di incontrarsi con lui di nascosto.